Tami, non so perché presto io combatterò C.E.O. C.F.O. Perché un drago no? Un bilancio è logico e la spada è ciò che è magico Dimmi, sposeresti persone per berle misone? Certo! Il mio cuore a magia se dell'oro ci sta Quindi apri un credito dai lascia i giochi che hai Spesso per un pugno da segni lo spasso di sdegni Ami! Voi volete che si sia Finanzieri! Imprenditori! Esperti! Tuttavia non ce lo imporrete mai Smettetela voi! È fantasia! Tuttavia! 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 Tuttavia!